Peppe De Cecco è pronto ad entrare nella compagine sociale del Real Giulianova. È un ingresso che fa certamente rumore data la caratura del personaggio. Il noto imprenditore pescarese fu a capo della cordata che rilevò il Pescara dopo il fallimento ed è stato presidente del Delfino fino al novembre del 2011 quando è stato avvicendato da Daniele Sebastiani per poi uscire dalla compagine sociale, non senza polemiche. Da allora più volte si è ipotizzato che De Cecco potesse tornare nel mondo del calcio accostato a diverse realtà. Quel momento sembra essere arrivato. Ieri De Cecco ha incontrato il presidente del Giulianova Luciano Bartolini. Ad aver promosso l'incontro è stato l'ex dieste dell'Olimpia agnonese Nicola Dottavio che potrebbe avere un ruolo nei quadri dirigenziali del Real Giulianova una volta che l'operazione sarà formalizzata. Resterà poi da chiarire se dopo l'ingresso con una quota di minoranza De Cecco deciderà di acquisire l'intera proprietà del Giulianova. Nel frattempo esprimono grande soddisfazione per l'incontro di ieri sia il presidente Luciano Bartolini che il direttore generale Mimmo Vernacotola che continuano nella loro attività di potenziamento della società per presentare il prossimo anno una squadra sì neopromossa in Serie D reduce da un doppio salto di categoria ma già pronta a disputare una stagione ambiziosa. Mi sento orgoglioso e onorato, ha dichiarato ieri su Facebook il patronne giallorosso di aver avuto modo di ospitare nella nostra sede uno dei più prestigiosi imprenditori a livello nazionale. Questo significa che la nostra azione a livello societario proseguirà in silenzio ma sempre in modo coscienzioso e più opportuno per finalizzare un progetto di primo livello. Nei prossimi giorni la società sarà trasformata da ASD a SRL per agevolare l'ingresso di De Cecco e di altri imprenditori desiderosi di sostenere il progetto Bartolini. Poi si passerà alla scelta del tecnico. Sfumato Paolo Rachini In pol ora c'è Guido Di Fabio ex allenatore di Martinsicuro Maceratese e Fermana